La casa sembra la casa. Maria sono tornata. Ho sempre sbaglio, non è qua. Come vengono, l'ai? E' qua, signor. Chi è? Chi è? Chi è? Il marito, il tuo marito. Tu marito? Tu? Come tu? Tu marito. E' buon? Deo briaco. Deo briaco? Deo briaco. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Consegui. Un. Due. Tre. E quattro. ジュowsk Pei- Ersents. Siamo due. Erses. Buonanotte. Roossi